Entriamo nelle vostre case dal 1955. Grazie all'impegno di tante persone portiamo la qualità del territorio sulle vostre tavole. Ed ora più che mai restiamo al vostro fianco e continuiamo a lavorare ogni giorno per nutrirvi con il buono della nostra terra. Auguri alle famiglie dei nostri dipendenti, dei nostri consumatori. Auguri alle famiglie che stanno combattendo l'emergenza sanitaria. Auguri agli uomini e alle donne che resistono e che continuano a portare speranza. Buona Pasqua da Klar, il buono che c'è in noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.